Allo stadio comunale di Faggiano il sole la fa da padrone. Si prevede infatti una gara calda in tutti i sensi perché il circolo degli amici Time Out e della Staranto si sfidano per portare a casa tre punti importantissimi in ottica qualificazione in Europa League. Le due squadre di fatti si trovano rispettivamente quinta e quarta in classifica distanziate da un solo punto quindi una vittoria sarebbe fondamentale per entrambe. Ma non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito a vedere cosa è accaduto in questa partita valevole per la 31esima giornata di Serie B2. Primo squillo di tromba per l'Ellas su calcio di punizione. Cannavaciolo però è attento e blocca in presa. Risponde subito circolo degli amici con Calò che dopo aver ricevuto palla centroarea scalda le mani di D'Angio con una conclusione ravvicinata. Febbia domestica il pallone sulla tre quarti poi dopo aver creato scompiglio tra gli avversari conclude dalla distanza ma il suo tiro è intercettato da Cannavaciolo che divia in corner. Ancora Lella Staranto all'attacco. Dauda riceve palla al limite dell'area e cross al centro ma i suoi compagni mancano l'appuntamento con il gol. Un altro calcio di punizione per Lella Staranto e ancora Cannavaciolo che blocca sicuro. Lella Staranto è padrone del campo ma gli attaccanti mancano di incisività e la retroguardia del circolo degli amici a buon gioco resiste senza troppi affanni. Il primo tempo si chiude sullo 0 a 0. All'ottavo minuto del secondo tempo il clamoroso errore della difesa rosso-blu fornisce a De Vincentis l'occasione per beffare il portiere avversario con un preciso sinistro che si insacca in fondo alla rete regalando così a circolo degli amici il preziosissimo gol del vantaggio. Azione d'attacco di un circolo degli amici più propositivo, questa volta però D'Angio intuisce tutto e intercetta la sfera. Un'altra azione pericolosa del circolo degli amici che adesso è il pallino del gioco ma l'attaccante viene contrastato al momento del tiro. Mucchio selvaggio nell'area dell'Ellas sugli sviluppi di un calcio d'angolo per circolo degli amici, alla fine però la difesa rosso-blu allontana la minaccia in qualche maniera. Azione personale di Yamme che riesce a portarsi al limite dell'area avversaria, il suo tiro però è troppo impreciso e se ne va per i fatti suoi a fondo campo. Rinvio lunghissimo della difesa rosso-blu, il tentativo di rinvio dei difensori con Pettorina Gialla favorisce l'intervento di Febe che sfiora la segnatura, portiere battuto. Combinazione volante tra Febe e Ndou con il numero 9 dell'Ellastaranto che si ritrova tu per tu con Cannavaciolo in versione muraglia cinese. E si chiude così con la bella vittoria di circolo degli amici che si scopre solido e cinico al cospetto di un nellastaranto troppo confusionario in attacco che si vede superare da ragazzi di Michele Melillo che si gode così il quarto posto.